Problemanza Ultimate, è pieno di bug, mamma mia, entri online, ti registri e non ti fai entrare. Nel server delle pratiche ci sono 19, 20 server, nelle preselezioni uno dove ci sono due, tre e non si entra. I menu sono rallentati, c'è il frizz, ti fai spaccare le nocchie dal volante con un force feedback impazzito. Quando entri in una lobby riesci ad entrare, giochi, giri come se fossi uno spettatore e non ti registra nulla, l'HD disattivato, non c'è la VR che è abilitato, ho preso due drive-thru dicendomi che praticamente dovevo seguire il mio avversario ma ero in prima posizione. Chi devo seguire il mio avversario? Ci sono dei difettucci a livello grafico, le Mans Ultimate. E cosa dico sulle Mans Ultimate? Ovviamente ragazzi, tutto quello che ho detto è vero, le Mans Ultimate presenta tanti problemi, tanti bug che devono essere risolti. Perché dico questo? Perché un early access ragazzi è come se vi stessero consegnando un gioco che è in fase ancora di sviluppo e quindi di conseguenza non è terminato, non è ottimizzato, non sono state fatte tutte le verifiche per quanto riguarda la bontà del codice e quindi ci ritroviamo davanti a queste problematiche qui. Ma questo è lo scambio eco tra ti vendo il Lirly access a un prezzo minore di quello che sarà il gioco completo e tu chiudi un occhio sul fatto che non sia propriamente completo e ottimizzato. Ok, così poi cosa succede? Quando sarà completo tu l'avrai comprato a meno. Ecco, questo è lo scambio tra lo sviluppatore ed il cliente. Cosa ci guadagna lo sviluppatore? In questo caso ci guadagna che per quanto riguarda Studio 397 via la spada di Damocle sulla testa, quindi nessun tipo di pressione per far uscire un titolo anche nei confronti dei competitor come Kunos che ha fatto uscire il suo DLCGT2 e anche Assetto Corsa 2 quest'anno dovrebbe uscire. Secondo, non hai più la pressione di dover per forza uscire con un gioco completo entro i termini che tu hai pubblicato e stabilito e che già stai uscendo con tre mesi di ritardo. E terza cosa, per quanto riguarda la parte finanziaria, dai una botta di vita con un milione e mezzo di fatturato più o meno in due giorni a Motorsport Games che ricordiamo è stato delisted, quindi lasciamo parte della parte finanziaria. Tornando al titolo, Le Mans Ultimate, cosa vi offre con 29,99€ e che cosa è cambiato rispetto al padre, rispetto al suo AVO Rfactor 2? Prima di tutto, Le Mans Ultimate non è Rfactor 3 come molti pensavano o speravano, ma è bensì un bellissimo DLC di Rfactor 2 dedicato al WEC, la categoria Endurance WEC, che per ovvietà di cose è staccato da Rfactor 2 e come licenza appunto Le Mans si presenta come titolo a sé, con la speranza di avere una longevità come ha avuto Assetto e sta avendo Assetto Corso Ampedizione, per poi nel futuro proporre non so che cosa, che tutte le licenze che hanno perse, boh. Le Mans Ultimate quindi che cosa fa? Spreme al massimo quello che è il motore grafico di Rfactor 2, presentando una veste totalmente rinnovata per quanto riguarda il menu, che era comunque già stata molto migliorata rispetto a Rfactor 2. Finalmente abbiamo dei menu semplici, dei menu che scorrono quando non ci sono problemi e un'organizzazione della struttura, che è comunque quella di Rfactor 2, molto più intuitiva. Quindi un plauso fatto a Studio 397 sullo sforzo di ridisegnare quelli che sono i menu, di quelli che sono le interfacce utente. A seguito del menu comunque abbiamo anche una grafica globale del gameplay che finalmente a colpo d'occhio ci fa esclamare è un gioco moderno. Quindi sono state aggiunte delle shader a detta di un mio carissimo amico che saluto che si occupa di modding, è stato rivisto il cielo, è stato rivisto il colore in generale che hanno utilizzato finalmente delle temperature di colore più basse, togliendo quel velo giallognolo che a me dava veramente tanto fastidio. E in generale è aumentato proprio il dettaglio grafico. Finalmente la Mans Ultimate è al passo con i tempi. Sono stati aggiunti dei dettagli che sono molto interessanti come ad esempio i moscerini, le mosche, i calabroni che si vengono a spiaccicare sui vostri parabrezza a delle velocità pazzesche, che sono talmente grossi che gli potete dare un nome e cognome. Oppure ad esempio la carrozzeria che mano mano che la gara va avanti si viene a sporcare, quindi anche questo è un dettaglio che secondo me ha un colpo d'occhio molto molto bello e interessante. Una piccola nota dolente che per il momento, e non so se sarà fatto nel futuro, non sono implementati tanti danni se non qualche ammaccatura che lasciano un po' il tempo che trovano. Per quanto riguarda invece il comparto audio, anche qui un passo in avanti è stato fatto con una certa corposità nei suoni, soprattutto nei bassi, anche se devo dire che nel complesso potevano fare un qualcosina in più, ma rimane comunque molto soddisfacente. E una cosa che ho apprezzato veramente tantissimo sono i dettagli di ad esempio le pietroline che sbattono sulla carrozzeria, il movimento dello chassis e tutte quelle sonorità parassite al motore che vengono a aumentare il coinvolgimento. C'è ancora uno step in avanti da fare, però devo dire che anche qui un plauso se lo meritano i ragazzi di studio 397. Per poi approdare a quello che è il clou della simulazione, e cioè la fisica ed il force feedback. Le disamine su quelle che sono le caratteristiche di R Factor 2, per quanto riguarda questi due comparti, possono essere completamente translate sull'ultimo titolo di studio 397, quindi le Mans Ultimate, che hanno preso, hanno fatto un copy and call e poi ci hanno lavorato. Perché? Pensavo fosse una mia impressione, ma in realtà è stato affinato anche il comportamento a livello fisico e non qualcosa di artificiale in più. No, è stato perfezionato il comportamento dell'auto che permette di capire ancora meglio quello che sta succedendo in pista, in connubio con un force feedback veramente di altissimo livello, che anche qui è stato affinato. E questo pensavo fosse una mia impressione, ma in realtà ho chiesto al mio entourage, ai miei amici, e mi hanno confermato avere anche loro questa sensazione. Rimane poi che cosa offre oggi, quindi a livello di gameplay, le Mans Ultimate, quindi il comparto multiplayer, che praticamente ritraccia quello che è il percorso che è stato fatto da studio 397 questo novembre scorso, in cui ci ha presentato un online molto interessante. Infatti avrete lo stesso safety rating se collegato il vostro account di Refactor 2 su le Mans Ultimate. Il funzionamento è uguale, la proposta degli eventi sono simili praticamente, e per quanto riguarda il single player si ha la possibilità di simulare un weekend e basta. Con una IA di altissimo livello ragazzi, lottano, sono aggressivi, insomma c'è una bella battaglia per chi non si vuole impelagare con quello che è il multiplayer. Detto ciò ragazzi, ci sono tantissime cose che devono implementare, la realtà virtuale, devono ottimizzare la grafica, devono ottimizzare e correggere un sacco di bug, c'è tantissimo lavoro da fare. Aspettiamo questa modalità asincrona e probabilmente una carriera single player, non lo so, o qualche aggiunta nuova sul multiplayer, vedremo, solo il tempo ce lo dirà, e seguiremo passo passo quello che studio 397 ci proporrà. E' un titolo che oggi a questo prezzo mi sento di consigliarvi tranquillamente perché la godibilità del gioco durante la guida è veramente spaziale. Questo è quello che penso e quelle che sono le mie prime impressioni. Ragazzi come al solito se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollice in su, lasciatemi un commento, ditemi che cosa ne pensate di Le Mans Ultimate, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao! Grazie a tutti!